Weee! Non fare il babbo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci Xyuderone! Dai! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video Io sono Xyuder e ragazzi finalmente sono arrivate le sfide rimedio versus tossina Praticamente si potrà sbloccare il colore viola per la skin appena citata La sfida importante da sapere è quella che ci chiede di visitare diversi camion del cibo food truck in vari punti Il primo ragazzi molto easy è qua davanti a me e si trova per la precisione aprendo la mappa sotto fattoria frenetica Sotto a dove c'è questa curva del fiume in posizione F5 Ci andate vicino lo visitate e il camion numero 1 è fatto Per quanto riguarda invece il camion numero 2 si trova da tutt'altra parte vicino al faro Come vedete è il camion del Dur Burger e per la precisione Aprendo la mappa siamo nella casella D2 esattamente qua Quindi ci andate vicino e il camion numero 2 è fatto E siamo arrivati invece alla fine ragazzi il terzo camion del food che dobbiamo trovare Si trova come vedete vicino al Borgo Bislacco In poche parole siamo esattamente Ora ve lo faccio vedere meglio Borgo è lì davanti Lo capite veramente benissimo e il camion che è quello del tomato si trova invece qua il pizza pit Ci arriviamo Numero 3 fatto Io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video Un bel pollicione in su Vi raccomando io sono in live su Twitch Ciao 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 Ciao